Proseguono i controlli della Polizia di Stato nell'ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall'emergenza coronavirus in seguito all'ultimo DPCM del Governo. Ieri i poliziotti della sezione volanti della questura di Caltanissetta hanno controllato 65 persone, acquisito 55 autocertificazioni che poi saranno soggette a verifica e elevato 11 sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna per violazioni delle misure di contenimento. Dopo la mezzanotte l'equipaggio della volante ha fermato un'autovettura con a bordo tre persone che transitavano per via Filippo Turati. Le persone in questione non erano legate da vincoli di parentela né di convivenza ed hanno riferito ai poliziotti di avere trascorso la serata insieme in giro per la città, andando così a violare la disposizione governativa che prevede il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle 22 alle 5 del mattino successivo senza un giustificato motivo. Altre due persone a bordo di un mezzo provenienti da Palermo sono state fermate dagli agenti mentre transitavano per via Calabria. Anche in questo caso hanno provveduto gli agenti stessi a sanzionarli perché si trovavano fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo. Le altre sanzioni hanno riguardato l'omesso uso della mascherina.